Radio Doppio Zero, Radio Doppio Zero, suona ciò che ami, più suona e più la ami. Buonasera, sono la professoressa Tota, concetta o tina per gli amici Tota. Sono la presidente dell'Associazione Culturale Accademia della Battaglia e l'associazione che a Bitonto cura il corteo storico e non solo, ci sono anche altre manifestazioni, e una iniziativa che a Bitonto viene realizzata a partire dagli anni Ottanta. Il corteo storico è nato per iniziativa scolastica, però poi dal 98 si è istituita l'Accademia della Battaglia con il proprio statuto e da allora l'Accademia se ne occupa e il corteo è diventato non più un fatto scolastico ma è diventato un'iniziativa cittadina. Cosa facciamo? Il corteo intanto, ricordiamo, vorrebbe ricordare la battaglia di Bitonto 25 maggio 1734, combattuta su suolo bitontino, data la sua conformazione, cioè la conformazione del territorio consentiva vie di fuga, aveva i parieti per nascondersi, dunque conventi, luoghi per approvvigionamento, per i rifornimenti, per gli aiuti. E quindi fu decisa a tavolino per cui il giorno 25 maggio, è una battaglia che cominciò già il 24 maggio, poi se ne venne una grande pioggia e fu sospesa e quindi la battaglia fu ripresa il 25 maggio. Si concluse con la vittoria degli spagnoli sotto la guida del generale Conte di Montemarra. Ora, che cosa si aspettava a Montemarra? Montemarra si aspettava che il popolo bitontino gli rendesse omaggio, ma i bitontini in realtà non sono stati i protagonisti della battaglia. Hanno seguito dai tetti, dall'alto hanno seguito la battaglia, sono stati vittimi di questa battaglia. Per cui, un po' perché avevano paura, avendo visto tutte le scene di guerra, un po' perché non erano i protagonisti della guerra, erano due stranieri che si contendevano il territorio, allora non hanno prestato l'atto di sottomissione al nuovo vincitore e Montemarra aveva deciso di dare l'assalto a Bitonto. L'assalto sarebbe partito il giorno, all'alba del 26 maggio. Ora, l'alba del 26 maggio, Montemarra era pronto, si racconta, ma non mai determinato, mai attestato dalla Chiesa, si racconta del miracolo, l'apparizione della Vergine. Comunque c'è anche di mezzo un fatto storico, era un fatto di economia, le casse militari furono trovate vuote, perché i tedeschi prima di andare via le avevano svuotate, però il popolo inneggiò alla Madonna perché non fu dato l'assalto e quindi a Bitonto si stabilì, a Bitonto e tutto il Regno del Sud si stabilì. Il Regno delle Due Sicilie, dato a Carlo III di Borbone, figlio di Filippo V di Spagna, era un regno autonomo e Carlo III di Borbone cominciò la rinascita del Sud. Quindi il Meridione cominciò con la battaglia di Bitonto, l'illuminismo che nel Sud cominciò molto tardi rispetto agli altri zone italiane, ma che comunque vide la crescita di tutto quanto il Sud, perciò Bitonto viene ricordato come capitale morale del Regno del Sud. La capitale fu stabilita a Napoli. Ora, per ricordare il fatto storico, noi facciamo il corteo, organizziamo il corteo storico, tutto in scrupoloso abiti settecenteschi, che sono tutti abiti di artigiani, quindi vengono fatti su misura, molti vengono fatti su misura, rappresentiamo diverse figurazioni, cioè le diverse classi sociali che al momento erano a Bitonto, a cominciare dai nobili, borghesi, popolani, quindi mettiamo in evidenza appunto le classi sociali, ma soprattutto come si svolgeva la vita qui a Bitonto. Sono iniziative che, diciamo, fanno vivere alla città delle giornate di ricordo storico, di ricordo di fatti storici, ma soprattutto sono messaggi che si lanciano perché non si vivano più certe esperienze. La guerra è sempre qualcosa da eliminare, da aburrire. Io, noi speriamo, con tutti i soci dell'Accademia, non siamo pochi, ma siamo tutti impegnati per dare il meglio alla città. Per le iniziative le organizziamo perché abbiamo come finalità dell'associazione l'integrazione, la socializzazione, l'inclusione, l'inclusione è perché tutti i cittadini si sentano responsabili, quindi nel momento in cui vivono queste vicende, loro si sentono responsabili e imparano a conoscere la città, ma perché possano difenderla nelle sue ricchezze storiche, nelle sue potenzialità, perché ci sono molte potenzialità che noi miriamo a valorizzare per il bene della città. Grazie.